leo gasman sei reduce da questo festival di sanremo quindi innanzitutto la prima domanda non può che essere quali sono state le tue emozioni di tornare su quel palco e portare la tua terzo cuore sono state delle emozioni insomma intense questo festival comunque ti regala tante emozioni ma ti ti porta via pure tante energie insomma è stato bellissimo cioè per me è un grande onore portare un brano del genere su quel palco portare l'amicizia tra me e riccardo portare diciamo tutti questi tre anni di duro lavoro dove ho avuto il piacere di poi anche insomma realizzare anche l'album che uscirà che è che e quindi e quindi sono sono felicissimo ecco senti qual è il complimento più bello che ti hanno fatto per per questa tua in questa tua settimana sanre mese il complimento più bello ma il complimento più bello credo sia stato quello dei miei amici quando sono tornato in albergo che peraltro erano venuti a sostenermi da varie parti d'italia ed erano venuti insomma in grande numero e mi hanno abbracciato mi hanno ringraziato erano commossi insomma è stato è stato bellissimo e poi anche i complimenti di eduardo insomma che comunque mi ha mi ha ampiamente ringraziato e anche si è complimentato appunto per il modo in cui ero sul palco il modo in cui interpretavo anche i suoi brani è stato un grande onore per me e e niente è stato un sogno che si è realizzato quello di salire sul palco con edu tra l'altro questo festival ha fatto sì che tu diventassi un po il simbolo diciamo così del delle buone maniere ecco abbiamo avuto degli esempi no in questo festival eh che non andiamo insomma a a rivangare eh che sono stati eh presi diciamo così come esempi negativi e invece tu sei impostato quello che rappresenta eh il appunto proprio le buone maniere proprio il il termine più appropriato come ti senti in questo ruolo te lo senti addosso oppure in realtà dici no guarda non sono anche io posso essere un bad boy ma guarda ehm io penso comunque di rappresentare le persone eh che che scelgono comunque ehm la via del buonsenso eh quello sì sicuramente eh ovviamente non sono né il primo né l'ultimo eh ci sono tante persone buone oneste educate rispettose che non vengono valorizzate in questo mondo ehm e sono le persone che in realtà tengono a galla questo pianeta eh perché se fossero tutti bad boy come li hai giustamente definiti tu eh sarebbe un mondo in guerra ehm e invece e invece ci sono delle persone che invece eh hanno la capacità grazie anche alle fortuna che hanno avuto nella vita ehm di respirare nei momenti difficili ragionare e e comportarsi in una maniera giusta eh per non far scoppiare appunto dei momenti di tensione inutili e e quindi sì sicuramente rappresento quella cerchia di persone lì e sono uno dei rappresentanti ehm però insomma comunque non non è che sono un angelo cioè anche io ho i miei difetti e come tutti e e sono ancora alla ricerca di me stesso e ci vuole tempo. Va bene e e però siamo qui per parlare soprattutto del tuo album perché a Sanremo ovviamente fa seguito la strada per Agarta e raccontaci perché innanzitutto questo titolo di origine letteraria e che cosa rappresenta poi per te Agarta e questo viaggio diciamo così anche spirituale. Ma Agarta rappresenta un viaggio fatto con degli amici sinceri eh nato da da emozioni sincere di persone che comunque hanno dei sogni che sono legati tra di loro e ci sono tante collaborazioni sia con artisti che comunque hanno fatto la storia della musica eh come Edoardo Benato come i Will and the People in Inghilterra che è una band che stimo tantissima tantissimo e poi ci sono delle collaborazioni anche con artisti un po' più un po' meno conosciuti ehm che ho incontrato nei miei viaggi in furgone eh c'è un artista indiano Raul Campbell che eh partecipa appunto a questo viaggio che parla di ripartenza a questo brano che parla di ripartenza e che ho conosciuto alla mia università quando ancora studiava l'università e c'è una collaborazione con Matteo Costanzo che è il produttore comunque di questo disco eh che è il mio migliore amico eh con il quale senza senza il quale appunto la musica per me non avrebbe un senso e poi ci sono collaborazioni eh ovviamente con i Pinguini nel senso che comunque c'è la penna di Riccardo e gli arrangamenti di Marco Paganelli ehm in due brani dell'album eh c'è un brano scritto da Lodo o Enzi dello Stato Sociale che è un amico ed è una persona un cantautore che stimo tantissimo e che mi ha regalato un brano bellissimo e poi ci sono brani che vengono da diciamo dal mio repertorio eh come ad esempio Caro Lucio eh che è la risposta all'anno che verrà di Lucio Dalla che è un insomma è un brano che ha molto a cuore e che mi tiene compagnia nei momenti difficili eh quando quando sono nel mare in tempesta ecco per citare sempre un brano mio. Ecco ma com'è nata l'idea di questo brano dell'anno del di appunto Caro Lucio e come pensi che l'Italia sia cambiata dalla fine degli anni ottanta appunto a oggi? Ma sfortunatamente in realtà non tanto nel senso che come dico nel brano io ho ancora paura dell'anno che verrà e mi piacerebbe tanto potermi confrontare mi sarebbe piaciuto tanto confrontarmi con Lucio che io considero uno dei più grandi cantautori che abbiamo avuto nella musica italiana e questo brano è un brano che è nato proprio in una maniera sincera ehm molto reale dove avevo paura avevo bisogno di parlare con qualcuno perché mi sentivo solo e io quando mi sento solo non parlo mai con nessuno quindi cerco di affidarmi alla musica quando 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 ne ho bisogno e ho scritto questo brano che mi lega a Lucio in una maniera eterna e sono tanto felice perché poi in realtà è un brano che ho avuto il piacere di cantare anche nella mia scorsa tournée e anche davanti a persone che comunque avevano avuto l'onore di conoscere Lucio ed è sempre stato molto apprezzato sono tanto felice che sia all'interno del disco perché è un brano di tutti è un brano eh che può far star bene tante persone perché ti dà la possibilità di ululare ti dà la possibilità di di dire quello che senti eh in una maniera diretta sincera e niente questo e poi hai voluto per aprire e chiudere il disco eh il grande massimo d'apporto per fare questo intro eh questa chiusura eh anche molto eh no di di impatto che è una cosa insolita insomma per un disco di di un ragazzo giovane quindi come mai questa scelta? Questa scelta perché perché per me per me era molto importante insomma eh rappresentare il mondo di Agarta in qualche modo attraverso qualche tipo di arte eh quindi sono stato con Giancarlo Scarchilli che è l'autore principale realtà dell'intro ehm e abbiamo riadettato una sua poesia e l'abbiamo fatta recitare a Massimo eh che con la sua voce mi mi faceva tornare bambino e mi faceva pensare alla voce di mio nonno ehm e ho unito diciamo questo questa sensazione questa emozione che che mi scadriva diciamo la voce di Massimo eh al concetto di fiabba che è un altro elemento molto importante per me che mi ricorda la mia infanzia perché io quando ero bambino mi addormentavo con le fiabbe sonore e mi ricordavo tutta è a memoria e quindi ho ho unito queste due cose e ho creato qualcosa che per me eh è molto importante che mi fa commuovere ogni volta che lo riascolto ehm e spero possa farlo con tutte le persone che ascoltano questo album che possa comunque farle entrare all'interno del concetto dell'album e farle tornare bambini eh per almeno tutta la durata del di questo di questo viaggio ecco ecco apro una parentesi su su tuo nonno il grande Vittorio Gasman che tu sostanzialmente non hai conosciuto ti senti una mancanza in questo cioè ti senti che ti manca una parte un qualcosa per non aver avuto questa grande occasione di avere un nonno così importante uno dei giganti del novecento dello spettacolo italiano e non averci potuto avere a che fare diciamo così direttamente o coscientemente ma eh sicuramente sicuramente mi sarebbe piaciuto conoscerlo meglio mi sarebbe piaciuto approfondire la sua persona eh al di là diciamo della sua artisticità e della sua arte che comunque ho il piacere di vedere quando 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 posso e quando ne ho voglia e quando ne ho bisogno però sai il bambino di avere un nonno che ha fatto quello che ha fatto insomma è e ci sono tante persone che si ricordano di lui e che hanno delle storie da raccontare quindi lo puoi costruire un po' come un puzzle e nella vita bisogna comunque rendersi conto che non esiste il bene non esiste il male esiste esiste e basta e la vita è com'è come si presenta e come si presenta quindi eh ciò che insomma ho la possibilità di vivere di mio nonno e di conoscere lo accolgo con grande piacere eh quando incontro persone che l'hanno conosciuto e scolto le loro storie potrei stare tutta la giornata ad ascoltarle e mi riempie il cuore di gioia ed ho una fortuna in questo perché appunto un artista è eterno e nonno a maggior ragione lo è stato e lo è ancora di più perché è stato appunto un grande attore è stata una grande persona e io mi ispiro molto a lui come mi ispiro a mio padre come mi ispiro a mia madre come mi ispiro alle persone che mi hanno amato fin da quando sono nato pensa io l'ho conosciuto quando avevo 16 anni fu un momento molto emozionante vedi e vabbè ma questa è un'altra storia senti ma invece il tuo disco è ricco diciamo così di tematiche anche sociali ambientali no? E quindi ti chiedo eh ma ehm di un messaggio sociale forte anche che dai ad esempio nel brano finale figli dei fiori eh ma in realtà il cantautorato riesce ancora ad avere un risvolto sociale secondo te al giorno d'oggi? Secondo me sì secondo me viviamo in un periodo storico in cui il cantautorato è messo un po' da parte eh perché un po' per paura un po' per perché eh le persone eh hanno hanno meno voglia di dedicare del tempo diciamo a a a una musica magari un po' più se vogliamo impegnata perché siamo continuamente bombardati da cattive notizie e i lavori diventano sempre più usuranti e di conseguenza abbiamo bisogno di ascoltare la musica che ci faccia distrarre però la musica non è soltanto distrazione ma è anche informazione anche è anche eh confronto dialogo ehm la musica è nata eh per insomma unirci in qualcosa di più grande rispetto al semplice ascolto ehm e di conseguenza eh credo che il cantautorato tornerà ad essere comunque il genere principale prima o poi poi la musica è un cerchio cioè si ripete in loop ehm però credo sia importante che i cantautori continuino a scrivere perché poi eh a un certo punto arriverà il loro momento e ma sono sicuro che continueranno a farlo perché se sei un aspirante cantautore non lo fai per il successo la popolarità ma lo fai perché ti fa star bene perché moriresti senza farlo eh ti sentiresti un morto che cammina eh e quindi questo questo album è dedicato anche agli aspiranti cantautori che continuano a fare musica senza dover inseguire le mode e che continuano a a studiare la musica e a portarla avanti e a crearne di nuova ecco e ovviamente inevitabilmente ci saranno poi dei live che seguiranno il disco che devi ancora annunciare però insomma dacci qualche preview eh ma guarda la prossima settimana annuncerò annuncerò le date sui misocial ehm se li avessi te le darei ma le stiamo definendo in questi giorni beh diciamo qualche idea che che magari ti frulla per la mente sei qualcosa di particolare magari qualcosa di particolare all'interno del live sì sì ma sai comunque l'album la strada per la carta si presta moltissimo a ai concerti eh quindi sicuramente eh ci saranno delle grafiche da questo è stato d'africano con il quale ho collaborato che insomma ha fatto anche tutta la relazione interna del disco ehm e quindi creerà queste grafiche per 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 appunto creare il mondo di Agarta e e poi ci saranno ci saranno appunto canterò anche brani del primo album eh i brani diciamo che comunque mi hanno reso noto al grande pubblico e ci saranno dei ehm ci saranno dei momenti acustici eh perché a me piace spesso anche cantare soltanto chitarra e voce o piano e voce ehm e poi ci sarà un dialogo ci sarà un dialogo tra me e le persone eh un confronto umano eh perché a me interessa molto sapere anche come vivono che cosa pensano che cosa sognano e quali sono le loro paure delle persone che mi seguono perché siamo una grande famiglia e e per me insomma non c'è distinzione tra un artista e una persona che lo ascolta eh anzi siamo tutti sullo stesso livello e e quindi e quindi mi piace l'idea di dialogare di raccontare di parlare con le persone che che verranno a supportarmi ai concerti perfetto e allora noi ti ringraziamo e chiudiamo eh questa intervista chiedendoti che cosa si augura Leo per questo duemila e ventitré ma eh Leo si augura che che si trovi un accordo di pace tra le nazioni in guerra in questo momento eh si augura la salute delle persone che ama e di tutte le persone nel mondo e si augura di continuare a scrivere grande musica di continuare ad emozionarsi e di continuare a concedersi la possibilità di vivere delle esperienze che vanno oltre a qualsiasi tipo di numero o di classifica. Ok e allora grazie, complimenti e in tutti i digital store ovviamente la strada per Agarta e poi ci vediamo per i live. Grazie ancora Leo e complimenti. Grazie.